Con ospite Fernando Caruncio, architetto e paesaggista di fama internazionale a tenere un Alexio Magistralis su come è cambiato il mondo del verde nell'ultimo decennio, l'azienda Pianti e Mati ha festeggiato un traguardo molto importante, 110 anni di lavoro. Credo che sia aperto una nuova sensibilità, perché la realtà mostra che abbiamo bisogno di un scambio forse. Allora credo che non sono il cittadino, ma soprattutto i politici che stanno prendendo diverse decisioni fondamentali per fare questo scambio. Avremo bisogno ancora di esigere ancora di più e pensare che il verde è il niente in un costo della città in relazione a quello che suppone il costo generale del mantenimento di una città, ma che è fondamentale alla vita di aria delle uomini e dei cittadini. Credo e sono molto ottimista che questa situazione sarà in prossimi anni di più in più più importante e più deficita. Festeggiare un evento di questo tipo ci obbliga a fermarsi un attimo a pensare, a pensare a tutto quello che è stato fatto, ma soprattutto a tutto quello che ancora possiamo fare. Abbiamo la quinta generazione che sta iniziando a entrare in azienda, ci sono due nipoti e un figlio che già sono attivi e che ci fanno pensare che oltre a 110 anni ci saranno altri festeggiamenti nel futuro. È quello che ci auguriamo. Il percorso che la nostra azienda ha fatto nei 110 anni è stato uno spunto per un intervento che ho fatto a un convegno internazionale sull'evoluzione, sull'evoluzione tecnologica. Io ho portato il pensiero dell'evoluzione come motore per i 110 anni dell'azienda, perché andando a studiare quello che ha fatto il mio bisnonno, mio nonno, mio padre, e anche quello che abbiamo fatto anche noi, noi tre fratelli mati, negli ultimi 20 anni, mi sono reso conto che è il concetto di pensiero, di innovazione, che ha sempre apportato una trasformazione all'interno di questa azienda e che ha segnato un'evoluzione, perché questa trasformazione l'ha sempre portata a essere uno, due, cinque anni avanti rispetto ai mercati, rispetto al mondo contemporaneo che viviamo. E vedo con piacere che sia le mie nipoti che il mio figlio hanno questo approccio, sono curiosi, ed è la curiosità che ci spinge sempre di più ad andare avanti.